Più che corso e quindi programma di formazione, piace proprio chiamarlo come percorso di trasformazione. Il programma Executive MBA si rivolge a candidati con competenze molto verticali. All'interno del programma impara come si gestisce un'azienda o un'organizzazione. Il nostro candidato ideale è un candidato con grande ambizione, un'ambizione di crescita. Sente un fuocherello, una voglia di imparare, una voglia di crescere e decide un po' di mettersi in gioco. Il programma Executive MBA di Zabocconi è pensato per Executive e quindi consente di conciliare l'attività professionale full time insieme allo svolgimento del programma. Abbiamo due diversi formati, un formato che chiamiamo weekend che ha i corsi al venerdì sera dopo l'orario di lavoro e sabato per l'intera giornata. Questo per due weekend al mese. Si svolge in due diversi sedi, nel campus di Milano e nel campus di Roma. Il formato modulare invece è un formato più immersivo, dove i candidati hanno una settimana full time, quindi da lunedì a venerdì. Un mese sì e un mese no. Nel mese no ci sarà un modulo di un weekend solo, quindi l'alternanza è un modulo settimanale, un modulo weekend, in modo che una volta al mese i candidati vengono a un campus, frequentano le lezioni, si incontrano e poi portano a termine dopo 18 mesi il programma Executive MBA. Oltre a una parte accademica abbiamo una serie di seminari, di workshop, un'attività di coaching individuale sui candidati per lavorare sulle proprie potenzialità. Quindi grazie al networking e grazie alle attività che vengono fatte in aula e fuori dall'aula, lo sviluppo del candidato è uno sviluppo che lo porta ad una vera e propria trasformazione. All'interno del programma poi abbiamo un occhio d'attenzione anche nel riguardo delle donne, semplicemente perché è una fascia d'età in cui le donne tipicamente hanno magari i bambini piccoli, quindi una famiglia da gestire. Quello che io dico sempre è che anche gli uomini hanno i bambini piccoli e la famiglia da gestire, quindi tendenzialmente quello che noi facciamo è aiutare in questa cosa. Il programma è un programma molto ricco e stimolante, ma nonostante questo i candidati spesso si riuniscono e trovano poi degli altri modi dove dal basso riescono in modo spontaneo a sviluppare delle associazioni o comunque delle piccole imprese, delle start-up o anche solo delle associazioni a supporto del business. Abbiamo in particolare due grandi associazioni, una che chiamiamo Emba2Kickback, che raggruppa candidati di diverse classi, anche alumni Emba di classi addietro, con attività a supporto manageriale nel no profit. Poi abbiamo altre associazioni, abbiamo l'Emba Women, quindi una serie di ritrovi spontanei che noi supportiamo per favorire poi il network e quindi per favorire poi la disseminazione di contenuti.